Non c'è stato niente da fare per il 54enne alla guida del Fiorino schiantatosi frontalmente contro un tiro questa mattina nel Foggiano e accaduto sulla strada statale 17 all'altezza di Votturara Appula intorno alle 6.30 del mattino. L'uomo era originario della provincia di Campobasso, scioccato ma fortunatamente illeso il conducente del mezzo pesante carico di Mangime che per motivi ancora da chiarire ha terminato la sua corsa sulla corsia opposta, non escluso tuttavia che sia stata l'auto ad allargare troppo la curva provocando l'incidente facilitato anche dal terreno viscido causa pioggia, anche perché sull'asfalto sono ancora visibili i segni della frenata del tir avvenuta sulla propria corsia. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco arrivati da Foggia e Lucera, i sanitari del 118 e i carabinieri per i rilievi del caso. La statale è rimasta chiusa al traffico per diverse ore, la circolazione nel tratto interessato è stata deviata lungo strade secondarie.